Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti girella. Il tempo di preparazione della ricetta è un'ora e venti minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, farina di tipo 00, burro, uovo, tuorlo, latte o panna, lievito per dolci vanigliato, cacao amare in polvere, un albume, pizzico di sale, una bustina di vanillina e granella di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. La farina L'uovo Il tuorlo Il pizzico di sale La vanillina Il lievito per dolci E la panna o il latte Chiudiamo con il coperchio e il misurino E facciamo amalgamare per 40 secondi A velocità 5 Togliere l'impasto dal boccale e dividerlo a metà Una parte posizioniamola in frigo, a volte nella pellicola trasparente L'altra metà l'abbiamo rimessa nel boccale Aggiungiamo adesso il cacao La granella di nocciole E la facciamo amalgamare per 20 secondi A velocità 5 Avvolgiamola nella pellicola trasparente Riponiamola in frigo per 30 minuti Trascorsi i 30 minuti Riprendiamo la frolla bianca E andiamola a stendere con il battarello Dopo aver steso la frolla bianca Mettiamola da parte Riprendiamo lo stesso procedimento con la frolla al cacao Dopo aver steso la frolla al cacao Andiamo a riprendere la frolla bianca Prendiamo l'albume Sbattiamolo leggermente E spennendiamo la superficie della frolla bianca Prendiamo adesso la frolla al cacao E posizioniamola sulla frolla bianca Rifiliamo i bordi A questo punto spennendiamo anche lo strato al cacao Adesso arrotoliamo dal lato lungo Aiutiamoci con la carta da forno Prendiamo l'albume Posizioniamola adesso in frigo Per altri 30 minuti Trascorsi i 30 minuti Abbiamo ripreso il rotolo dal frigo Adesso andiamo a tagliare delle fette E formare i nostri biscotti Posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno E continuiamo così per tutto il resto dell'impasto Dopo aver formato tutti i biscotti Uociamoli in forno preriscaldato a 180 gradi Per 10-15 minuti circa I biscotti sono cotti Lasciamoli raffreddare prima di servire Biscotti girella Grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti